Adesso riprenderemo da dove ci eravamo interrotti la scorsa lezione Non possiamo permetterci di perdere Devo battermi proprio come farebbe Ryuga se fosse al mio posto Papà aiuto fai qualcosa non ce la faccio più dal dolore Dannazione ho una gamba bloccata sotto l'armadio Forza Brunto manchi soltanto tu Ci sono quasi